La due giorni di prevenzione ad Augusta tratterà anche il tema dell'oncologia, quindi anche le prevenzioni oncologiche. Lei ha parlato nel suo intervento di tumore alla mammella e tuttavia, parlando di prevenzione, molte donne non fanno prevenzione, pur avendone la possibilità, pur avendone l'obbligo. Perché non la fanno? Probabilmente c'è una difficoltà di tipo conoscitivo, nel senso che il cancro è stato inteso tradizionalmente come la malattia che ti porta a morte. L'utilizzo del vocabolo cancro significava morte e sofferenze. Adesso questo è totalmente cambiato, dicevo infatti che quasi c'è una rivoluzione copernicana. Il cancro adesso è non solo curabile, ma anche guaribile e quindi ci sono molte persone, in Italia circa 800.000, che sono guarite da una malattia cancerosa. Questo dovrebbe spingere le persone ad avvicinarsi all'anticipazione diagnostica e quindi a fare diagnosi precoce, perché questo è un elemento fondante di quel vantaggio che si può avere in termini di probabilità di venirne fuori in maniera definitiva. Dottore Tralongo, non è che a scoraggiare le donne in tema di prevenzione del cancro della mammella ci sono anche in qualche modo le lunghe liste di attesa che potrebbero in qualche modo anche scoraggiare, si parla spesse volte anche di mesi di attesa per un esame. Le difficoltà delle liste di attesa ci sono, però nello specifico per esempio per il cancro della mammella no, perché esiste uno screening, quindi ci sono dei soggetti che vengono chiamati e invitati a fare un esame gratuitamente e che poi non si presentano. Quindi significa che il problema non è un problema in quel contesto di tipo economico, ma probabilmente è un pregiudizio culturale. La paura di sapere insomma. Probabilmente la paura di sapere. E qui diventa importante invece una manifestazione come questa perché ha oltre che avviare un percorso di diagnostica strumentale clinica, anche quello di dare l'informazione che è utile per cercare di eliminare per quanto possibile quel pregiudizio individuale nei confronti dello screening. Grazie a tutti.